ciao a tutti sono laura lena forgia in questo periodo così oscuro e così difficile i nostri ospedali godono della presenza di veri e propri eroi professionisti che lavorano in prima linea costantemente mettendo anche a repentaglio la propria incolumità per garantirci il ritorno alla normalità per questo grazie davvero con tutto il cuore anche se grazie penso che non saranno mai abbastanza i nostri ospedali però hanno davvero bisogno di noi hanno bisogno del nostro sostegno ed è per questo che ho deciso di aderire anch'io alla raccolta fondi lanciata dalla nazionale influencer per gli ospedali di sesto san giovanni e di cinisello balsamo forza perché sono sicura che insieme uniti ce la possiamo fare ciao